O un blocco, ballerina di amici racconta il suo dramma, pubblico scosso Nessuno sapeva di questo particolare del suo passato a commuovere tutti è stata Rita, che incontrando Giulia Stabile ha deciso di svelare un particolare problema della sua sfera privata Ha sofferto infatti di dislessia e questo le crea un blocco. Amici di Maria De Filippi, Facebook, nel daytime di amici a finire sotto la lente d'ingrandimento è stata nelle ultime ore Rita La bella e brava ballerina sta attraversando un momento non troppo semplice Proprio in una delle ultime puntate, Alessandra Celentano l'ha messa in guardia D'ora in poi pretenderà da lei un salto di qualità dal punto di vista dell'espressività, suo tallone d'Achille Se non riuscirà a tirar fuori tutto quello che averrà eliminata dall'insegnante Proprio per migliorare, la ballerina ha chiesto di poter incontrare Giulia Stabile, convinta che un confronto con la stimata professionista del suo settore le potesse dare una mano Parlando con lei Rita ha dichiarato, ho un blocco. Entrando nello specifico della parte da migliorare, l'allieva del talent show di Mediaset ha spiegato che prova vergogna e questo le impedisce di tirar fuori tutto quello che ha dentro Sentendo queste parole Giulia ha chiesto alla ballerina se questo blocco deriva da alcune incertezze presenti nella sua sfera personale Proprio rispondendo a questa domanda la giovane ha parlato di dislessia, che l'ha colpita in passato Amici, la confessione di Rita a Giulia Stabile, la dislessia mi ha bloccato in passato Rita sul palco di amici, Facebook, Rita deve cercare di dare il meglio di sé per rimanere in gioco In questo periodo sta attraversando una felice parentesi dal punto di vista sentimentale, dopo essersi baciata con Nine A livello professionale invece le manca un pizzico di sicurezza La Stabile, nella loro chiacchierata ha provato a rassicurarla citandole un aspetto personale Io avevo una sorta di vergonna perché mi vedevo come un brutto anatroccolo Poi evidentemente Giulia è riuscita a dimostrare a tutti di essere una bellissima e bravissima donna, superando questo scoglio dentro di sé Rita sembra essere stata convinta da queste parole e ha promesso di metterci tutta se stessa per fare un passo avanti Vedremo se riuscirà veramente a stupire Alessandra Celentano Grazie a tutti